ah la dita dove sono i primi dei primi eh cazzarola vabbè sento passi mi sa no ah finisco di darmi sono spara granate di merda che rimbalza che cazzo serve non c'è non c'è non c'è ma che c'era c'è gente mi sa davvero ma non c'è niente niente in tutti i miei posti niente oh grazie il tizio mi ha dato le ossa si grazie grazie no vabbè non ho una cazzo di pistola a me è un mattone ho un smg non c'è no c'è non 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 c'è ma si non c'è una cosa come si i lanciabuovo funzionano con i missili Sì Ah sì? Non ha molto senso Uh, posso farmi l'assalto viola? Parti, parti, venite a me Ho trovato dei razzi, se servono a qualcuno Eeeh, io vorrei provare a vedere come funziona questo Fa schifo Cioè, rimbalzo, se lo butti in un po' solo l'uco, c'è l'uoco L'uoco ha chiuso, chi sta, però all'aperto no All'aperto non serve più contatto Oh shit, I'm on fire Come on baby, dai, dai Sono a fai, fai così Quante parti ho? Tre Che vuoi? Non posso non dare a pelmoneria? Non mi ha dato niente Oh sì, no, me l'ha data, ok Prima questo Si è trovati Granate Io ne ho tre Ti servono? No, no Ok, te le prendo Appena arrivo No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Qua c'è un'altra trama. Bene. Io ne ho già tre, quindi quelle mie basta. Grazie. C'è un arco qui. Questi macchinari danno parti? No. No. C'è un arco qui. Sbagliato, l'ho fatto per troppo tempo. Mi dimentico che a 40 devo fermarmi. C'è un arco. ah me ne servono sei ma non era quattro? no hanno aumentato eh me ne sono accorto dai l'ultimo l'amico che dice qua? lo puoi sfidare per... faccia meno un pompa viola mi sembra c'è una banana un pompa viola no magari lo vuole Fabio boh ho messo male con l'ultimo chi con la macchina? l'amico giallo ok adesso ha da... quattro no viva Hinata non 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 vi servivano i razzi allora? nooo io li lascio non 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 toccare però ora te la fa e no allora chi ti servono scusa stai giocando col camion so nessuno di noi è una attra non arrivato e che cazzo tutte le facciano esplodere tutte quelle che abbiamo quasi distrutto sono andate c'è un arco meccanico blu se qualcuno lo vuole dobbiamo prendere il giallo no ah gli è cosa stai facendo? ha sfidato il cuoco qua è ancora vivo cosa? eh quello doveva doveva insomma ma poi non riuscivo a farlo ci sono delle granate sopra mi si ti interessano no no l'ho già fatto trovate le tue io non ho colpi di un cazzo non è che possiamo andare da un'altra parte eh dovevo ma rimane eh però sono un po' inutile io facciamo il giro da sinistra si ora c'è il legno no vabbè no sta arrivando la tempesta ci sono le le case qua sulla spiaggia oddio qua non ho esponato nemmeno una gesta wow come quando è iniziato eh grazie colpi del shotgun che io non ce lo neanche ci sono frecce dall'arco le frecce? le frecce sono piena ora 31 si anch'io mi servirebbe l'assalto che ne ho 123 e anche il... quelli piccoli la mitralletta te le posso dare? no ho trovato degli altri razzi che cavolo e qui c'è una... la mitralletta le vuoi è una valigetta grande grazie la mitralletta è qui si grazie vuoi shotgun? io ne ho un botto mi sa ma vabbè se non lo usi si perchè questo qua primordiale che consuma un bel po' di... eh dov'è? qua che non ce l'ho proprio lo shot che si ce l'ho dato anche la pistola ma ho visto che possiamo ottenere solo 500 colpi ora si hanno diminuito pure 4 per caso da avere mille di assalto mi casavo un bordello bello rosa che spammi troppo non lo so ho di fronte oh si ha una posteriore cosa è dietro? si sono tutti sulla sinistra ho preso uno un altro esplosivo c'è gente anche sulla destra eh l'amico fritz sta combattendo con altra gente pure profetto non ho Ah! Cos'è? Un uovo? Oh! Oh, cazzo! Dove sta andando? Boh, ho mangiato un uovo e mi ha fatto diventare così! Sto cercandolo, vedo! C'hanno l'arco di fuoco, così che è in mattona! No, ma ci hanno circondato, pure da sinistra! Do, ci sono qui anche le piante che vanno a fuoco! C'è uno lì a sinistra! Oh! Headshot! Oh! L'ho noccato! Bella! Morirà nella tempesta, spero! A meno che lo vanno a salvare questi qua! Stanno andando a salvare! Stanno andando a salvarlo! Sì, però c'è la tempesta! Non so che cazzo vuole fare! Ora muoio! Noccato! Bella! Eccolo là! No, che cazzo che mi ha distrutto la mia! Brutto stronzo del nostro amico! Oh, ciao! Oh, non ho visto, ma bella! Oh, non ho visto, ma bella! Ah!